Una buona giornata, una buona settimana, un ben ritrovati a tutti voi amici carissimi che ci seguite attraverso i canali di Telepace e le frequenze di Radiopace. Arriviamo a questo lunedì 23 aprile 2018, oggi la Chiesa ricorda la figura di San Giorgio e noi vogliamo fare gli auguri di buon onomastico a Papa Francesco che porta il nome di Jorge Mario Bergoglio, quindi Giorgio Mario Bergoglio. Tanti auguri con l'assicurazione della nostra preghiera come nello stile di Telepace. Siamo all'ultima settimana di questo quarto mese del 2018, del mese di aprile, anche se poi pure il lunedì prossimo saremo proprio all'ultimo giorno di aprile, ma daremo uno sguardo in particolare al mese di maggio che poi si aprirà. Vi ricordo il nostro appuntamento in diretta alle 8.40, riproposto poi alle 17.25 nel pomeriggio di oggi. Abbiamo parlato di Papa Francesco e nella giornata di ieri, domenica, del Buon Pastore, il Papa ha consacrato 16 nuovi sacerdoti, ma come sempre alle 12 si è affacciato dalla finestra dello studio privato del Palazzo Apostolico per rivolgere la sua parola prima della preghiera mariana del Regina Celi. Gesù è il pastore buono per eccellenza perché ha offerto la sua vita per noi e ci risana dalle tante forme di infermità spirituale come ambizione, pigrizia, orgoglio. Serve però mettere con fiducia la propria esistenza nelle mani del Risorto, lo ha ricordato appunto il Papa nella domenica di ieri, quarta di Pasqua. Commentando il Vangelo, Francesco ha sottolineato che quando Gesù dice di conoscere le sue pecore, che le sue pecore lo conoscono, non parla di una conoscenza intellettiva, ma di una relazione personale di tenerezza reciproca. Il Papa ha esortato quindi a lasciarci conoscere da Gesù. Lui infatti sa quali sono i nostri pregi e i difetti, i progetti e le speranze deluse, ma ci accetta così come siamo, anche con i nostri peccati, per guarirci, per perdonarli e ci guida con amore, perché possiamo attraversare sentieri anche impervi senza smarrire la via. Ma anche noi siamo chiamati a conoscere Gesù, ha esortato il Papa. Per fare questo bisogna abbandonare gli atteggiamenti autoreferenziali per incamminarsi su strade nuove aperte su vasti orizzonti. Quando nelle nostre comunità si raffredda il desiderio di vivere, il rapporto con Gesù, di ascoltare la sua voce e di seguirlo fedelmente, è inevitabile che prevalgano altri modi di pensare e di vivere che non sono coerenti al Vangelo. Maria, nostra madre, ci aiuti a maturare una relazione sempre più forte con Gesù, aprirci a Gesù perché entri dentro di noi una relazione più forte, lui è risorto così possiamo seguirlo per tutta la vita. Così il Papa, come dicevamo prima, della preghiera mariana del Regina Celi che ci accompagna in questo tempo di Pasqua. Veniamo alla nostra programmazione. Vi ricordo alle 10.30 oggi e poi venerdì 27 aprile alle 20.30 all'appuntamento in diretta con linea aperta, tu per tu con gli ascoltatori in versione pasquale per tutto questo tempo di Pasqua. Vado invece ora a segnalarvi una novità che parte questa sera, tutto in tutti, il cantiere delle unità pastorali. Sappiamo che la Diocesi di Verona si è data dei tempi, una tabella di marcia, cinque anni per arrivare a far funzionare le unità pastorali che abbracceranno tutto il territorio diocesano. Già lo scorso anno il Vescovo, incontrando i consigli pastorali parrocchiali, incontrando coloro che sono coinvolti quotidianamente nella pastorale, aveva lanciato questo progetto, questo cantiere delle unità pastorali. Allora questa sera alle 20.35 questo nuovo appuntamento che ci aiuterà a conoscere soprattutto i protagonisti di questo progetto in replica domani alle 23.40 e poi sabato alle 13.40. Ma a tale proposito c'è uno spot che andiamo a vedere, a seguire insieme. Tutto in tutti in cammino verso le unità pastorali. E questa è la nuova avventura che a partire da lunedì inizierà su Telepace, un programma dedicato al cantiere delle unità pastorali che è iniziato lo scorso anno. Vi racconteremo qualche esperienza, vi faremo vedere qualche volto, vi racconteremo la situazione di oggi. Tutto in tutti questa sera alle 20.35. Mentre alle 21 prosegue l'appuntamento con Fatima, una storia nella storia in preparazione anche all'anniversario numero 101 che seguiremo il prossimo 12 e 13 maggio 2018. Vi segnalo anche la rubrica non solo rosa domani mattina alle 11.30. Ancora una volta voci di donne al microfono di Francesca Martini che ci raccontano la loro esperienza, la loro storia, il loro modo di affrontare la vita giorno dopo giorno. Domani sera alle 20.30 in diretta dal Santuario Maria Stella dell'Evangelizzazione vi ricordo l'appuntamento con la preghiera con Telepace per Telepace, preghiera che ha come momento forte i Vespri, la preghiera dei Vespri e l'adorazione eucaristica con un momento anche di riflessione sul percorso biblico che accompagna, accoglie, avvolge il nostro Santuario dedicato a Maria Stella dell'Evangelizzazione. Dopodomani il calendario segna rosso, festa, festa di San Marco Evangelista, patrono tra l'altro di tutte le genti venete, ma non è festa liturgica, è festa civile, è festa della liberazione e non essendo appunto festa liturgica, come ogni mercoledì a partire dalle 9.30 andremo a seguire in diretta la piazza San Pietro l'udienza generale che il Santo Padre concederà a tutti i pellegrini che in queste ore stanno giungendo a Roma. E come sempre, come ogni mercoledì, l'udienza generale sarà riproposta in maniera integrale a partire dalle ore 21 in serata. Vi ricordo ancora sabato 28 aprile il fatto, commento, un fatto di attualità alle 17.50 con Don Bruno Fasani è riproposto domenica 29 alle 19 e poi martedì 1 maggio alle 15.50. C'è un appuntamento che è iniziato con la prima domenica di Quaresima e che prosegue anche in questo tempo di Pasqua ed è in ascolto, commento alle letture festive. In compagnia in questo tempo di Pasqua di Don Andrea Ronconi andremo a scoprire quella che è la liturgia della parola della quinta domenica di Pasqua esattamente venerdì alle 18.30 e poi riproposto sabato 28 aprile alle 19 e domenica 29 alle 8.35. in ascolto una modalità, un'occasione in più per non arrivare digiuni alla liturgia della parola della quinta domenica di Pasqua. E siamo a domenica prossima, 29 aprile dove alle 12 potremo pregare insieme con Papa Francesco nella preghiera mariana del Regina Celi, come abbiamo ricordato poco fa appuntamento che ci accompagna in questo tempo di Pasqua. Al momento, consentitemi di dire così, per domenica è prevista solo questa diretta con Papa Francesco. Sappiamo che tante volte, cammin facendo, ci sono delle dirette che si aggiungono, comunque al momento la diretta che vado a segnalarvi è questa del Regina Celi. Prima di passare alla radio, vi ricordo che quotidianamente, tutti i giorni, possiamo seguire Telepace News, prima edizione alle 18.45, seconda edizione alle 22.45, riproposta poi all'indomani a partire dalle 9.45. Una finestra aperta sulla vita della Chiesa che vive in Verona, ma non solo. E siamo, come dicevo, a Radio Pace, Radio Pace che ogni giorno, tranne lunedì, perché ci siamo noi, propone Orizzonti Cristiani alle 8.45, riproposto poi alle 13.10 e alle 16.25. Mentre da lunedì a venerdì, vi ricordo, doppio clic alle ore 14, sempre una proposta firmata da Radio Vaticana Italia. E infine, vi ricordo che la domenica pomeriggio alle 17, come è successo anche nella giornata di ieri, in diretta dal Santuario Maria Stella dell'Evangelizzazione su Radio Pace, possiamo seguire la Santa Messa. Anche questa un'occasione in più per poter unirci a quanti sono presenti nel Santuario dedicato a Maria Stella dell'Evangelizzazione, qui sul Colle della Pace. Pentagramma, invece, tratta di musica, il lunedì, questa sera, alle ore 21, su Radio Pace, poi riproposto giovedì alle 23.30 e domenica non più alle 17.30, proprio per la presenza della diretta della Santa Messa, ma a partire dalle ore 25. www.telepace.com, il sito di riferimento per conoscere tutta la programmazione di Tele Pace e per conoscere anche nella sezione a lei dedicata la programmazione di Radio Pace. Vado a ricordarvi i nostri canali, Tele Pace, Verona, Canale 14, Canale 14 anche per quanto riguarda il Veneto, insieme al 187, in Lombardia il 187, in Emilia Romagna il 94 e il Trentino, Canale 13. Per quanto riguarda la radio, a Verona Città 92.3, Verona Provincia 90.3, Verona Est 94.7, come anche in Valpantena 94.7, sul Lago di Garda 90.5, a Mantua Città 90.3 e a Reggio Emilia 90.5. Anche la radio che proprio ha compiuto 40 anni lo scorso 27 novembre 2017 è un'esperienza che vale la pena di ascoltare, di conoscere, di approfondire su quelle frequenze che abbiamo ricordato. Bene, io mi fermo qui, l'appuntamento si rinnova tra sette giorni quando il calendario segnerà appunto il 30 aprile. auguro a tutti voi una buona visione, un buon ascolto e una buona settimana. Grazie a tutti.